Padre Elino, oggi l'inaugurazione del basso rilievo che rappresenta il riconoscimento del legame di Papa Orsini con il convento di Toro e con l'intera comunità. Bene, sì, questo Papa veramente per lui è molto caro perché, come tu dicevi, durante la sua vita è venuto molto spesso, soprattutto nelle visite pastorali che faceva ogni due anni veniva sempre di Nemonise e venendo da queste parti lui stesso dice che preferiva risiedere in questo convento che era molto meno sera d'estate, quindi c'era molto fresco. Questo legame non si è interrotto anche perché ha lasciato delle belle testimonianze, delle belle vestigia che si conservano nella chiesa, non soltanto nel convento ma anche nella chiesa madre. Al Comitato Amici della Memoria è nato spontaneamente il merito di aver realizzato il basso rilievo alla memoria di Papa Orsini, ma come è nata quest'idea? Sì, l'idea è nata da padre Gaetano Iacobucci che abitetto appunto nella chiesa del Beato Giacomo, ha trovato questo basso rilievo del prima cardinale Orsini, poi Papa Benedetto XIII che tanto ha fatto per la nostra comunità. Quindi l'idea è stata quella di realizzare una copia di questo basso rilievo anche qui da noi e quindi si è formato questo comitato spontaneo che ha avuto lo scopo di raccogliere i fondi necessari per la realizzazione del basso rilievo. Il cardinale Orsini è stato 44 anni arcivesco di Benevento e Toro con tutti i comuni del versante Fortorino ricadeva nell'arcidiocese di Benevento, una delle più grandi arcidiocese del mondo. Però inoltre, e questa è la peculiarità di Toro, era feudo dell'abbazia di Santa Sofia di Benevento e quindi Orsini in quanto abbatti di Santa Sofia era sia padrone feudale e sia padrone spirituale come arcivesco di Toro. Siamo molto contenti che assieme a questa idea di Padre Gatano Iacobucci raccolta dall'Associazione Gli Amici della Memoria, dal Comune di Toro, da tutte le persone che hanno creduto in questo progetto, abbia potuto riportare il lustro a una figura storica che ha fatto molto bene a Toro e in alcuni paesi del Molise in generale. Qualche anno fa abbiamo intitolato la piazza del Sagrato del Convento al Cardinale Vincenzo Mario Orsini, poi Papa Benedetto XIII e quindi siamo contenti che si stia continuando in questo verso sempre per rimarcare quella che è stata la storia del Comune di Toro che comunque ha ancora tanto da dire.